Dalle quattro ruote alle quattro zampe, ma anche in questo caso parliamo di un fuoriclasse, Rex, il cane poliziotto più famoso della TV. Questa sera dopo il TG va in scena il dolore di Rex, che perderà il suo amico e padrone, il commissario Moser. Una doppia dose di carezze e biscotti e Rex, star televisiva a quattro zampe, si è subito rimesso al lavoro. Certo, come ogni cane che si rispetti non dimenticherà tanto facilmente il commissario Richard Moser, suo amico e compagno di tante avventure sul sette, che questa sera cadrà sotto i colpi dei criminali di turno. Rex comunque può reputarsi fortunato perché chi è stato scelto per sostituire il commissario Moser sembra proprio un tipo in gamba. Primo perché gli animali, cani in testa, li ama davvero. Poi perché, ma questo magari farà più piacere alle telespettatrici, sguardo intenso e muscoli allenati, nuovo attore, Gedeon Bunker, è quel che si dice un bel ragazzo. Poco più che trentenne tedesco è stato scelto tra 250 aspiranti per il ruolo dell'agente Alexander. E c'è da scommetterci, gli appassionati della serie non resteranno delusi. E dopo Rex, su questa rete, passioni, c'è anche Valeria Marini, le sue paure.